Io anzitutto voglio dire un grande grazie all'amministrazione comunale per quello che ci ha permesso di poter fare. L'amministrazione ci ha dato anzitutto la gestione di questo edificio che è molto utile per l'ubicazione dove si trova, sia per il fatto che noi ne possiamo soffrire e per questo abbiamo potuto fare una mensa con 40 posti che ha già iniziato ieri a elargire i pasti e poi per questo dormitorio. Per la mensa il comune ci ha dato 12.000 euro, per quanto riguarda il dormitorio il comune ha pagato il materiale che è servito per fare questo dormitorio. Diciamo che ci stiamo avviando, per la mensa già abbiamo fatto ieri la prima volta la cena, contiamo di fare settimanalmente la cena per le persone più bisognose, siamo coordinati tra noi parrocchie, la parrocchia San Pio X farà il pranzo e con noi faremo la cena, mentre la parrocchia San Giuseppe farà la colazione e anche uno spuntino a metà pomeriggio per i ragazzi bisognosi. Quindi ci coordiniamo tra noi parrocchie cercando di venire incontro ai bisogni delle persone. Dall'altra parte abbiamo inaugurato questo dormitorio però in effetti è ancora in completamento, mancano gli ultimi lavori e questo lo stiamo facendo. Quindi speriamo di avere 14 posti per quelle persone bisognose che hanno esigenza di venire a dormire per non rimanere la notte fuori. Dall'altra parte è sotto l'occhio di tutti che la povertà avanza. Basta perdere il posto di lavoro e già non ci sono più i soldi per l'affitto, per le medicine e quant'altro. Chi è nel campo questo lo può ben dire perché oggettivamente i poveri sono più numerosi, i poveri avanzano. Noi contiamo molto sul volontariato, contiamo anche sul contributo delle persone. A noi ora rimane pagare le utenze per la mensa, per l'ormitorio e via di cento. Quindi io mi affido al contributo anche dei nisseni, di quelle persone di buona volontà. Daremo anche il numero di conto corrente bancario che abbiamo già aperto, di modo che quelle persone che vogliono, sapendo dove vanno a finire i soldi, ci possano aiutare. Sino adesso i nisseni si sono comportati molto bene, devo dire, perché ci hanno aiutato sia per la parrocchia, perché è una parrocchia che si trova nel centro storico e c'è molto di bisogno. Noi paghiamo bombole di gas, paghiamo medicine, aiutiamo le persone. Sono io stesso che vado a pagare direttamente per evitare di dare i soldi in mano. Adesso i bisogni aumentano, però è un servizio diretto che noi facciamo ai poveri, quelle persone che già conosciamo, che hanno tanto di bisogno e che senza un aiuto del genere veramente rimarrebbero ora senza medicine, ora senza bombole, ora tanti a dormire fuori, ora a mangiare quello che capita e poi queste cose si pagano. Voglio dire un grande grazie a tutti, sapendo che tante persone sensibili già si sono fatte avanti, però abbiamo bisogno ancora di altre persone che possono contribuire per i bisogni economici e anche di cibo della parrocchia e dei nisseni. Grazie. Questo modo di intendere il Vangelo noi non possiamo che esserci e ci siamo sempre stati, nel caso specifico mettendo a disposizione i locali, questi locali, ma al di là di questo c'è stato anche un contributo che noi abbiamo dato per quello che possiamo, ma anche l'attività del volontariato e delle persone che hanno lavorato in questo contesto. Tutto questo fa sì che sinergicamente riusciamo a realizzare un'opera, ma ripeto, la cosa più importante è la testimonianza, laddove si testimonia qualcosa, al di là delle parole, noi ci saremo sempre. Infatti i servizi sociali comunque a carta di setta quattro soldi dispendono, diciamolo chiaramente, spendiamo un milione di euro ogni anno, ma al di là di questo la cosa veramente è la capacità che i nisseni hanno, quando ci sono dei sacerdoti che riescono ad essere trascinatori, a sostenere iniziative di questo tipo.